Niente Carri è sfilata quest'anno per la Sega Vecchia di Forlimpopoli, una delle feste più antiche della Romagna, in programma dall'11 al 18 marzo. La decisione è stata presa dall'ente folcloristico-culturale e l'amministrazione della città ortosiana, dopo l'approvazione di alcune norme sulla sicurezza per il pubblico spettacolo. Per essere in linea con la nuova normativa ci vorrebbero quindi molte risorse economiche, risorse che l'associazione di volontariato che organizza la manifestazione non si può permettere. La Sega Vecchia ha un costo di circa 60.000 euro, dei quali circa 20.000 servono già a garantire la sicurezza dei cittadini durante l'evento. L'ente folcloristico ha già investito 30.000 euro per mettere a norma i carri, ma con la nuova normativa era necessario investirne perlomeno altri 10.000. La manifestazione, che perderà uno dei suoi eventi clou, la sfilata, manterrà invece il Luna Park, i programmi settimanali e il mercato. Sicuramente un duro colpo per i forlimpopolesi, visto che la sfilata dei carri coinvolge ogni anno tante famiglie con bambini, che si iscrivono anticipatamente per salire sul carro della Vecchia. La festa affonda le proprie radici nelle tradizioni pagane legate al ciclo delle stagioni, quando segare o bruciare un fantoccio alla fine dell'inverno era di buon augurio per la bella stagione che stava per arrivare.